Oggi ci si chiede effettivamente come poteva Palermo candidarsi a capitale della cultura europea quando vede il suo centro storico letteralmente crollare. Come si può candidare una città a capitale della cultura quando i privati proprietari di immobili nel centro storico si oppongono alla espropriazione e poi non mettono in sicurezza i beni di loro proprietà. È la ragione per la quale ho dato disposizione agli uffici competenti di adottare a tappeto ordinanze di messa in sicurezza in danno a carico dei proprietari di immobili i quali sono molto bravi a tenere cadenti questi immobili e poi ad invocare responsabilità dell'amministrazione comunale. Quindi da questo momento in poi la musica cambia anche rispetto a questo. I proprietari che hanno immobili nel centro storico o li mettono in sicurezza o li mettiamo in sicurezza a noi, a garanzia della vita dei cittadini e poi pagheranno i danni i proprietari di adempiente. C'era un'ordinanza del Comune per mettere in sicurezza questa appellazione nello specifico e c'era anche di più. C'era una espropriazione di questi immobili per realizzare nuovi edifici e riqualificare la zona. Gli interventi, la messa in sicurezza, piuttosto che i lavori che si fanno nel centro storico li fa l'ufficio che li ha sempre fatti presso i lavori pubblici con una notizia. Tra dieci giorni inizieranno i lavori per realizzare proprio in quella zona, proprio in piazza Garaffello, le sottorreti necessarie per dare vita a questo quartiere. Sono certo che avremo il consenso dei padermitani nel momento in cui chiuderemo questa zona per realizzare opere che servono per riqualificare questa zona e anche mettere in sicurezza gli edifici. Non vorrei che quando noi faremo queste operazioni, cioè apriremo i cantieri, si alza qualche filosofo del giorno dopo per dire ah avete chiuso il centro storico, bisogna chiudere delle zone per poter realizzare dei cantieri di lavoro, piazza Garaffello sarà un cantile di lavori.